Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestensi. Allora, nella notte il governo ha preso una decisione riguardante la nuova situazione dell'emergenza coronavirus in base alle restrizioni. Allora, le scuole superiori non riapriranno dopo domani, ma lunedì prossimo, mentre torneranno regolarmente in classe invece dal 7 gennaio a giovedì gli alunni delle elementari e delle medie. Questo ha deciso il governo, quindi il rientro a scuola in presenza per le superiori è fissato a lunedì 11 gennaio, quando le regioni torneranno a essere colorate sulla base delle fasce di rischio. Intanto ieri il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato un'ordinanza per cui le scuole superiori venete resteranno chiuse fino al prossimo 31 gennaio. Secondo Zaia non sarebbe assolutamente prudente riaprire le scuole in questo momento e chiuderle, dice, un sacrificio che va fatto per il bene della comunità sulla stessa linea, il Friuli Venezia Giulia, che adotterà un'ordinanza simile. Nel nuovo decreto del governo il 7-8 gennaio tutta Italia tornerà gialla per poi tornare nel fine settimana arancione, cioè il 9-10 gennaio, vietati sempre se non per necessità gli spostamenti fuori regione ed è ancora consentita la visita di due parenti o amici per nucleo familiare. Il nuovo decreto poi prevede che dall'11 gennaio si riparta con la divisione per fasci e colori e per la prossima settimana è già confermata il mantenimento del coprifuoco alle ore 22. Tutto questo in base all'ondata, a questa seconda ondata dell'epidemia da coronavirus in Italia ma anche in Emilia Romagna e nel Ferrarese. Allora sentiamo i numeri, i dati che servono anche a capire come si sta muovendo questa emergenza. Aumentano i nuovi positivi nel Ferrarese ma sono stati fatti anche più tamponi rispetto al giorno precedente, quindi il tasso positivi tamponi eseguiti domenica rimane stabile. In territorio estense nelle ultime ore 115 nuovi positivi e rimane alto fortunatamente anche il numero dei guariti 97. Capitolo ospedali, il numero dei posti letto dedicati ai pazienti covid nel Ferrarese e anche in terapia intensiva continua a essere importante ma abbastanza stabile. Nessun decesso per complicazioni apportate da coronavirus dopo il paziente deceduto domenica. Se ci spostiamo in regione crescono i decessi in Emilia Romagna. In aumento negli ultimi giorni, domenica sono state 54 le vittime. Ma in regione i nuovi guariti, quasi 1800, superano i nuovi positivi, 1600. Cresce però a livello regionale la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi eseguiti domenica che è al 17,5%. Tornando nel Ferrarese, di queste ore è la polemica assorta all'interno del petrochimico di Ferrara che ha portato i sindacati e le RSU dei lavoratori della Basel a indire uno sciopero fino al 7 gennaio. Motivo, a detta delle sigle sindacali, le condizioni di sicurezza anti-Covid che non sarebbero state rispettate e le quali avrebbero portato un focolaio dentro il petrochimico. Accuse rispedite al mittente nelle scorse ore dalla direzione aziendale Basel, la quale ha sottolineato che i casi di coronavirus riscontrati sarebbero esterni al polo chimico e la sicurezza sarebbe garantita. Intanto è stato siglato un patto di collaborazione tra Comune di Ferrara, aziende USL e il consorzio di aziende all'interno del petrochimico IFM per rafforzare lo screening anti-Covid. Una convenzione a tre che dovrebbe rafforzare l'attività di monitoraggio che, secondo il Comune, IFM porterebbe avanti sul petrochimico già da settimane. La campagna di screening sarà rivolta ai dipendenti delle aziende che operano al petrochimico, l'adesione sarà volontaria e la campagna potenzialmente coinvolge una popolazione di circa 3.000 persone. Ferrara dimostra di essere unita nella lotta alla diffusione del Covid, spiega il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, secondo cui 6.000 persone transiterebbero nel polo. Per dare il via allo screening, IFM allestirà una postazione di drive-thru dove eseguire i test presso l'ingresso della portineria Est. All'interno di questi ci sarà un medico dell'azienda USL per due giorni alla settimana che si occuperà dell'attività di prelievo ed esecuzione del tampone rapido antigenico e della successiva refertazione. Da ieri anche a Ferrara la campagna vaccinale è entrata a regime, ma dalle 500 dosi di ieri si passerà il 7 gennaio ad oltre 700 dosi. In tanto si predispone un nuovo punto di vaccinazione anche all'ospedale di Icento. Sono alcuni dei dati forniti dal coordinatore della cabina di regia della campagna vaccinale a Ferrara, il dottore Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda USL e referente a Ferrara per la regione. L'intervista integrale al dottor Ciotti andrà in onda mercoledì 6 gennaio alle ore 16, domani e giovedì prossimo il 7 gennaio alle ore 20 ovviamente su Telestense. Ma sentiamo alcuni punti salienti di questa intervista. La situazione è in continua evoluzione, è chiaro, perché noi abbiamo fatto la programmazione per riuscire a vaccinare, come ci è stato chiesto, tutta la popolazione target dei professionisti, dipendenti, privati e affiditati, entro le tre settimane a partire da oggi. Ma la volontà è di accelerare ulteriormente. Quindi davvero anche da parte della regione c'è una grossa attenzione e c'è stato richiesto di fare uno sforzo ulteriore. Tra cui ovviamente poi, oltre al privato, accreditato, personale sanitario e sociale, quindi ci sono anche tutti gli ospiti della CRA e il loro personale. Quindi noi stiamo già adesso, in questo momento, sono sempre in collegamento con anche il nostro direttore generale, due direttori generali, che sono in collegamento non soltanto con l'assessore ma anche con il Presidente Bonaccini per cercare di aumentare ulteriormente il numero di seduti. Dal 6 cominceremo con le CRA anche e sulle strutture sociosanitarie vogliamo ottenere giornalmente 200-250 vaccinazioni per arrivare nella provincia, ok, giornalmente anche ad arrivare tra i 700 se non anche di più vaccinazioni giornaliere. Proprio davvero, anche, scusi se finisco il ragionamento, proprio anche oggi, in accordo anche con il nostro direttore generale, c'è la volontà di aprire un ulteriore punto proprio per avere ancora più caratterizzità a livello distrettuale, perché è chiaro che se noi ci avviciniamo ai nostri dipendenti, si vaccinano di più e quindi il 7, come dire, ufficioso, però probabilmente a breve diventerà anche ufficiale, vogliamo aprire anche sul 100. Stiamo andando a fare i sopraluoghi per capire chiaramente i luoghi adatti, ma sono appunto punti plenieri o come ho detto, quindi non dovrebbero esserci problemi proprio per davvero aumentare il più possibile la popolazione che ha il nostro vaccino. E passiamo adesso alla politica, la politica ferrarese dall'attività svolta nel 2020 all'elenco di buoni propositi per il nuovo anno, così il Movimento 5 Stelle apre il 2021 con una conferenza stampa per fare il punto sull'attività politica ferrara e un punto anche sugli obiettivi da raggiungere anche a breve termine. Sentiamoli. Ambiente, sviluppo di energie rinnovabili, piano periferie, zona logistica semplificata e poi ancora l'edilizia popolare, il reddito di cittadinanza e la sanità pubblica in primis. Questi temi è il centro della politica del Movimento 5 Stelle svolta a Ferrara nell'anno che si è appena chiuso, ma rilanciata ancora più forte nell'anno appena iniziato. Uno dei primi problemi da affrontare, secondo noi, è quello delle bonifiche di certe aree. È di pochi giorni l'annuncio che sono stati stanziati un po' più di 5 milioni per la regione Emilia-Romagna proprio per la bonifica di aree degradate e di aree abbandonate. Allora, ad esempio, secondo noi il quadrante Est verrà già ripreso dalla Solveig, che è stata riconosciuta responsabile dell'inquinimento in quella zona. Noi spereremmo di convogliare una parte di questo denaro invece sul quadrante Ovest, perché è un bellissimo progetto che era stato presentato nel 2016 per recuperare l'area dell'ex distilleria eridania, dal Boicelli fino a Via Turchi e Via Pontida. Purtroppo si è bloccato perché una delle tre società che componevano l'ATI, l'Associazione Atemporanea di Impresa, la SECI del gruppo Maccaferri, è fallita. Allora manca tutto l'intervento preliminare di bonifica per poter arrivare a riqualificare una zona anche all'insegna proprio del turismo ciclofuviale. Tra i light motive dei grillini la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle energie sostenibili come la gestione dei rifiuti solidi urbani. Avevamo già chiesto, quindi a un tavolo partecipativo indetto dall'assessore all'ambiente, la predisposizione di uno studio di fattibilità per provare a proporre una gestione in-house, cioè una gestione pubblica, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Purtroppo c'è stato detto che verrebbe a costare troppo, anche un semplice studio di fattibilità. Noi siamo alquanto perplessi perché ad esempio con la vendita delle azioni di era, che il sindaco ha detto che al momento sono intocchiabili, potremmo avere un introito proprio dal soldo pagato dai cittadini con le bollette, la possibilità di cominciare, come a Forlì, a una gestione che non sia più un monopolio di era, ma interamente pubblica. E poi la richiesta di realizzare un ospedale di comunità anche a Ferrara, in una struttura in disuso sul territorio. Questi anni di ospedali dismessi ce ne sono stati tanti, penso al Pellegrino, penso alle cliniche universitarie, penso alla struttura per esempio di San Giorgio, tutti diciamo stabili che sono stati abbandonati, ma che dal momento che l'arrivo dei fondi da Recovery Fund, una parte prevede anche eventualmente la, diciamo, riabilitazione, se possiamo anche usare questo termine, la ristrutturazione di vecchi ospedali, ecco potrebbe essere il momento per far sì che Ferrara possa pensarne uno. E quindi secondo noi è indispensabile perché l'OSCO, ovvero l'ospedale di comunità, è quella struttura, diciamo, che si fa intermedia, che si fa carico delle persone, nel momento della dimissione dall'ospedale, quindi dalla fase acuta, per tutto quel periodo di riabilitazione, in attesa poi di rientrare o al proprio domicilio o in un RSA, insomma, è una fase transitoria ma necessaria. Cambiamo adesso totalmente argomento, parliamo di sport e di SPAL, perché i bianco-azzurri sono tornati a vincere ieri nella trasferta a Frosinone, dopo una partita difficile, la SPAL è riuscita a vincere 2-1 grazie al gol di Paloschi, ma per noi c'era Alessandro Sovrani che ha seguito la partita e ci racconta così, questa prima vittoria dopo un periodo non facile per i bianco-azzurri ed è la prima vittoria per il 2021 della squadra di Ferrara. Nel giorno del suo 31esimo compleanno Alberto Paloschi ha fatto un bel regalo a se stesso e alla SPAL suo il gol quando mancavano poco più di 5 minuti alla conclusione del match di Frosinone che ha regalato alla formazione di Pasquale Marino il successo sull'undici di Alessandro Nesta che era passato in vantaggio nel corso del 26esimo minuto del primo tempo quando Dickman si era fatto soffiare un pallone nei pressi della linea di fondo campo da Tribuzzi che lo aveva rimesso all'accento per la corrente Castanos che con diagonale da sinistra verso destra non lasciava scampo al portiere della formazione ferrarese. In precedenza ben poche note di rilievo tanti errori da una parte dall'altra non avevano pagato le mosse iniziali di Marino che aveva inserito sugli esterni Dickman a destra ed Alessandro a sinistra con anche Di Francesco che non riusciva al fianco di Valotti a garantire il necessario apporto a Flocari. punto di riferimento centrale sul fronte offensivo praticamente inoperoso il portiere Iacovucci un solo pericolo per lui quando su punizione calciata in verticale dall'altra quarta di Salvatore Esposito in apertura vi era stato un colpo di testa del solito Valotti sempre puntuale negli inserimenti che questa volta però non aveva trovato lo specchio della porta avversaria. Spal che faticava ma al quarantesimo guadagnava un calcio di punizione per un fallo commesso ai danni di Valotti da Gori palla a distanza che appariva proibitiva ad oltre dieci metri dal limite dell'area del Frosinone sulla stessa si portava Salvatore Esposito prodezza balistica sfera che scavalcava la barriera e terminava la soccorsa imparabilmente a fil di palla a mezz'altezza alla destra dell'incolpevole Iacovucci. Iniziava meglio il Frosinone in apertura di ripresa più determinato ma mancava di incisività pensate tra infortuni giocatori fuori rosa e positività al covid Alessandro Nesta doveva rinunciare a bene 13 giocatori della rosa comunque un secondo tempo che non lasciava spazio ad emozioni alcune sino al ventottesimo quando dal limite dell'area il polacco Parise che si girava lasciava partire una conclusione che toccava la parte alta della traversa della porta difesa da Tiaman nel frangente fuori causa ma qui la gara è cambiata nel momento in cui sono subentrati Sala per D'Alessandro Strefezza per Dickman e quindi anche Paloschi per Di Francesco la panchina ha dato i suoi frutti la spazio si è riversata nella metà campo del Frosinone al 39esimo valotti da due passi ha messo fuori su grosse proprio di Sala quattro minuti più tardi arrivava poi la rete del vantaggio Spallino con conclusione dalla tre quarti insidiosa perché la palla picchiava a terra proprio dinanzi a Giacobucci che non cateneva il pallone come da sue prerogative Paloschi era il primo ad avventarsi sulla sfera prima calciava su Giacobucci poi raccoglieva ancora la respinta dell'estremo difensore del Frosinone e scaramentava il pallone in fondo alla rete in precedenza rete annullata nel corso del trentasettesimo minuto quindi in questo forcing finale dei ferraresi a Tomovic che appoggiava in fondo al sacco un pallone da due passi azione molto confusa alla fine si notava un fuorigioco di rientro di Flockeri che toccava il pallone prima della conclusione di Tomovic quindi giusta la segnalazione del primo assistente di Sosta sempre in questo periodo da segnalare a confermare come la spalla era riuscita a portarsi in avanti e anche ad essere pericolosa una conclusione a distanza ravvicinata di Sala respinta con i piedi da Giacobucci insomma un successo che alla fine ha portato in presso il marchio dei nuovi entrati anche se la spalla ha corso un grandissimo rischio un minuto 49 angolo di Beghetto tra i migliori nelle file del Frosinone che Nesta aveva schierato con un 4-5-1 mischia gigantesca con anche il portiere Iacobucci che si era portato all'interno dei 16 metri difensivi della spalla sul pallone e si avventava l'ex Giacomense Tavanelli da poco entrato in campo sembrava fatta ma sulla linea con Tiam fuori causa nei pressi del pallo sulla sua sinistra c'era Valotti che riusciva a respingere una ribattuta che valeva un gol alla fine al tirare delle somme al termine di una gara tutt'altro che spettacolare meritato successo per la spalla per le occasioni che è riuscita a creare nel finale determinante decisiva ripetiamo la panchina bianco-azzura l'apporto dei nuovi entrati è quello che ha fatto sì che la gara abbia cambiato letteralmente di volto Sfalch e quindi sale a quota 29 al quarto posto preceduta dalla capolista Empoli che non pare fermare la sua marcia dalla Serenitana invece sconfitta in casa dal Pordenone e dal Mondo che ha pareggiato sul terreno del Lecce nei confronti diretti non ci si possono fare non ci si devono fare illusioni Sfalch e conferma pregi e difetti e sempre in attesa di quel paio di rinforti di mercato che se dovessero alla fine risultare azzeccati potrebbero diciamoci la verità consentire alla Sfalch di guardare a qualcosina in più rispetto a quei play-off che comunque oggi come oggi con questo gruppo sembrano essere alla portata della squadra di Pasquale Marino basket adesso un grande baldassarre ha trascinato domenica il club Ferrara la vittoria sul campo del Chieti Basket 75-66 il risultato finale sentiamo Spiroleca a fine partita l'allenatore della squadra di Ferrara ma guarda sapevamo che sarebbe stata una partita tosta loro in casa non avevano mai perso e per questo sono contento perché abbiamo fatto una prova di solidità dove tutti hanno provato a dare quello che avevano e nei momenti di difficoltà sul meno 3 l'abbiamo risolto di squadra e non individualmente e questa è un'altra cosa che ci fa capire che tutti si devono far trovare pronto in una serata dove viene fuori Baldassarre che fa una partita importante a livello di numeri in attacco però c'è anche un Zampini che entra dalla panchina e fa cose molto importanti adesso pronti ci proiettiamo per il mercoledì che ci sarà una partita molto molto difficile loro una squadra diversamente da Chieti Latina una squadra con 9 elementi nella rotazione che anche di qualità serve un'impresa anche mercoledì noi non sappiamo ancora se ci sarà ancora no E.J. Packer ma questi ragazzi i nostri ragazzi viene chiesto un altro sforzo perché non sarà niente di scontata anzi sarà molto difficile a partire di mercoledì E con questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense e vi do appuntamento